La partita della prima serie 200 si è libero del 2001, il record della larga estrazione edizione 2012 Andrea Vincenna Dall'Arigo, 1,46 e 86 Luca! Vieni 50 per me, mi chiedono se c'è cosa, 23 e 50 Antonio Vincenna in seconda produzione, Stefano Vicento, ma siamo già ai 100 minuti Mamma Sarce come, 26 e 60, 50 e 10 Siamo ai 150 metri 30 e 27, 50 e 94, Michele Sassi E si conclude questi 200 di delivero 1,47 e 37, 25 e 94, Michele Sassi 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 2, всем point che leva l'acağımologia Michele Sassi 6,とnessi